Musica Benvenuti, oggi Medi in Romagna vi porta a conoscere il mondo di Tonino Guerra, qui a Sant'Arcangelo di Romagna insieme a suo figlio Andrea Guerra. Innanzitutto, chi era tuo padre? Mio padre è stato uno seneggiatore, descritto come leggendario su IMDB, che è il sito internazionale di chi lavora nel cinema. È stato un poeta, seneggiatore, che è riuscito anche a tramandare qualcosa di quello che è la parlata della Romagna. Per parlata intendo quell'insieme di pensieri e riflessioni che poi se li traduci in letteratura spesso li disperde. Questo lo diceva Ermanno Cavazzoni e ha ragione, cioè lui parla della parlata come di quella cosa della tradizione che si mette nel tuo linguaggio. E lui attraverso la poesia è riuscito a fare questo e anche nella traduzione in italiano e in francese, mantenere questo nostro stile che ci contraddistingue, stile che ha anche nel DNA i nostri comportamenti, la nostra visione, insomma la visione romagnola diciamo. Ha aiutato sicuramente a far crescere la Romagna nel mondo, il suo nome? Sì, sì. Appunto per questo attraverso la poesia, specialmente la letteratura, è riuscito a fare conoscere la Romagna, come diceva Calvino. La Romagna e l'Oriente, cioè riusciva a mescolare un suono, uno sguardo con una montagna, con un continente. E quindi è riuscito a far conoscere un microcosmo, Sant'Arcangelo Penabilli, dentro l'Uzbekistan. È la sua magica confusione. Suo padre era un artista tutto tondo, in questa mostra si riassume un po' tutta la sua opera attraverso le mani di altri artisti e artigiani, che hanno realizzato le sue idee artistiche. Allora, questo è il Museo Tolino Guerra a Sant'Arcangelo di Romagna. Poi c'è un altro sito, che è l'Associazione Culturale a Penabilli. Sono i due luoghi dove puoi trovare delle opere di Tonino, che in qualche modo raccontano una fase della vita. In questo museo noi abbiamo cercato di raccontare la sperimentazione che Tonino, nella terza sua fase della vita, dal 1980, ha riportato sui suoi territori, sui territori dell'infanzia. Contestualizzando la fine degli anni 70 e degli anni 80, diciamo, sono gli anni del divertimentificio, dei laminati abex che ricoprivano i mobili tradizionali, quindi in un certo senso della bruttezza, secondo Tonino. E quindi ha impugnato come una missione un ritorno e ha cercato insieme anche degli artigiani, che ha ruolato per strada, di ricominciare con dei nuovi codici di bellezza. In questo museo si cerca di fare vedere questo lavoro con gli artigiani, che appunto dagli anni 80-81 è iniziato, e quindi vedremo degli accessori anche fantastici, dei mobilacci che anziché essere in legno sono di ceramica e non hanno nessuna funzione se non quella di ricordare come era fatto un mobile, perché già nel ricordare la forma estetica viene in mente anche un pochino la poetica. Oppure, come vedete alle mie spalle, ci sono delle stufe, delle lanterne, scusate, che sono delle lanterne immaginarie, che Tonino ha immaginato quando era mosca e ha pensato che fossero delle lanterne ideali per illuminare qualche angolo della nostra coscienza, probabilmente. E via via, scatole, cartone, ceramica, carta, legno, e hanno iniziato appunto a riconfigurare questa bellezza. Infatti, se ricordate un pochino, il termine è la bellezza, la bellezza, la bellezza. E' nato da quegli anni Ottanta. La bellezza e l'ottimismo anche, che era quel concetto che Tonino portò nella pubblicità appunto di Oscar Farinetti. L'ottimismo e il profumo della vita. E questo museo racconta questo. Tra queste opere ci sono anche gli splendidi fischietti giganti, ma come gli era venuta questa idea? Allora, mi viene da dire che ci sono delle idee razionali, ci sono delle idee dell'anima. Probabilmente i fischietti sono una di queste idee dell'anima. Anche il cinema è un'idea dell'anima. Secondo Tonino il suo cinema preferito era il cinema di immagine, non quello di parola. Quindi non dove la trama era predominante, ma dove l'immagine in qualche modo ci dominava attraverso la grandezza, come nei film di Sergio Leone, che in un duello lo sguardo equivale a una montagna. C'erano questi cambi secchi di dimensione e di prospettiva. I fischietti. I fischietti sono la stessa cosa, quindi sono un'idea dell'anima per un nutrimento interiore e sono un cambio di dimensione. Lui ha notato che c'erano questi piccoli fischietti che sia a Susdal, per un romagnolo dire Susdal è veramente una cosa impossibile, quindi io lo dico come mi è venuto con la S. e anche invece nel sud Italia, a Matera, c'erano questi fischietti forse dei pastori e lui semplicemente li ha ingranditi, ha detto li ingrandiamo. E ha fatto queste opere, questi anatroni, che poi ha chiamato anatroni, di ceramica che sono belli per la vista e nutrienti probabilmente. E poi alle sue spalle troviamo le tavole con l'uso dell'oro. Sì, anche queste sono alle mie spalle, nelle varie collaborazioni questi artigiani dovevano anche vendere, perché dobbiamo fare dei prodotti belli che si vendono, perché se no sono prodotti belli invenduti e voi non guadagnate, tutta questa nostra teoria non funziona. E allora in una fase di questa cosa qua, in queste tavole quadrate che lui realizzò per una mostra che doveva girare, in pratica lui faceva dei disegni con un chiodo e poi con la ceramista, con la cottura Raku, metteva insieme a lui dei colori. Venne l'idea di usare l'oro. Dice, ma Tonino, lei dice, Luciano, ma Tonino, ma dove lo mettiamo l'oro? Dice, l'oro sta bene dappertutto. E quindi questa serie di tavole con l'oro che sta bene dappertutto è qui al museo a Sant'Arcangelo. Che venne invece anche esposta dove? Venne esposta a Los Angeles, in una mostra che fu fatta a Los Angeles di Tonino. In un'altra fase, le fasi sono tante, ci sono le fasi della carta, le fasi della ceramica, le fasi, come dicevamo prima, del legno. In una fase quasi ultima, in una fase preultima, diciamo, appunto inventò questi vasi, questi vasi che poi chiamò i vasi per un fiore solo. Sono dei vasi bellissimi che hanno un collo molto lungo, sono un po' bottiglioni, un po' giraffa, e dove dentro si può mettere un solo fiore. Oltre le idee, diciamo, sulla bellezza, c'era il tema del recupero per Tonino, molto importante. Perché lui, rientrando appunto da tutta la sua vita, dai suoi viaggi, dalla Russia, da Roma, non da Parigi, come dice, però è come se l'avesse vista, si è reso conto che qua, nella sua memoria, mancava qualcosa, tanti luoghi erano abbandonati. Allora ha incominciato a voler immaginarsi, a ridescrivere questi luoghi abbandonati, oppure a ricingerli in qualche modo in un racconto. E in una vecchia chiesa di Budrio, disabitata e abbandonata, installò appunto queste onde. Il titolo di quella, come si chiama, di quella mostra era La cattedrale dove va a dormire il mare. Questo però è uno spazio vivo, dinamico, che ospita anche mostre al suo interno. È diventato spazio vivo, specialmente questo anno abbiamo inaugurato, per fare le cose ci vuole un'economia, l'economia delle sue regole, che probabilmente non coincidono tanto con le nostre, però specialmente in questo anno, l'anno cioè del centenario, perché Tonino insomma nel 2020 festeggerebbe il centenario, lo festeggiamo comunque, abbiamo inaugurato una serie di mostre. Michelle von Buren di RVB Art organizza per noi, attraverso dei suoi artisti, cinque mostre. E qui vedete, ad esempio, sopra le opere di Tonino, un qualcosa di molto dialogante, è la foresta degli animali di Bato, che nella foresta di Tonino, con la foresta di Tonino, è molto compatibile. E quindi andremo avanti, per tutto questo anno, anche nel 2021, perché il Covid ovviamente ha frenato queste rappresentazioni, a mostrare questi artisti che combaciano nella poetica con Tonino. Abbiamo parlato di tuo padre, ora però appunto parliamo di te, figlio d'arte, ma che appunto è riuscito sicuramente a creare una sua grande carriera in un altro settore, quello della musica. Allora, sì no, figlio d'arte con me non ha mai funzionato, sfortunatamente e fortunatamente i miei genitori hanno divorziato molto presto. Io quindi già un anno ero libero da qualsiasi vincolo. Ho sentito l'altro giorno Andrei Tarkoschi, che è il figlio di Andrei Tarkoschi, invece lui, porca miseria, intanto quando mi telefona appare Andrei Tarkoschi, che per me è come dire, cioè aiuto, a lui è rimasto il vincolo. A me no, quindi sono cresciuto molto liberamente, ispirato da mia mamma, che era una signora molto colta, molto libera, e non ho sentito questo vincolo. Poi con Tonino ci abbiamo anche giocato, perché ovviamente siamo rimasti amici, siamo rimasti padri e figli, però ad esempio io non ho mai fatto fotografie con mio padre, non esistono fotografie mie di mio padre. Deci Tonino mi diceva, ma Andrea, noi una foto, ho detto, babbo no, la siamo così, sta andando così bene, a parte questo capitolo, perché ci tengo, perché io non lo so, con i figli d'arte, mi sembra che ci sia uno sconto da qualche parte, invece ho avuto fortuna, la preferisco lo sconto, io sono un compositore, scrivo musica da film, è iniziata la mia carriera, perché avevo tra i miei sensi, secondo me lo sguardo, è quello che dà ordine a tutto, e guardavo questi documentari di natura subacquea, e ho iniziato a musicarli, prima di diventare musicista, compositore, e ho scritto queste colonne sonore, ma le ho scritte 100-200, e me le sono anche dimenticate, la cosa buffa è questa, in un secondo tempo, più tardi, le ho ripresentate, e nella follia dell'idea, era un prodotto che mancava, c'è una colonna sonora, per i documentari subacquei, e da lì iniziare a lavorare, poi insomma, è stato un crescendo, adesso ho fatto tanti film, in America i più famosi sono Ter Rwanda, siamo stati candidati al Golden Globe, ai Grammy, con Gabriele Mucino, La ricerca della felicità, in Italia, l'ultimo film di scuola, tanti film di Ospedek, Finestra di fronte, Le fatti ignoranti, Cuore sacro, tantissimi film, serie televisive, che a me divertono tanto, perché mi danno la possibilità, comunque quotidianamente, di impegnarmi sul lavoro, ma tante, i Medici in Famiglia, i Cesaroni, Ora un passo dal cielo, Don Matteo, tante serie televisive, il giovane Montalbano, che è una creatura che è ritornata, e sta andando benissimo, insomma. Insomma, un grande lavoro fatto, con grande umiltà. Sì, ma guarda, l'umiltà ti viene dal lavoro, perché se tu ti concentri, e pensi alla storia della musica, evidentemente sei polvere, devi solo fare, non devi fare solo l'errore, di metterti, posizionarti in qualche situazione, che non è la tua, devo dire che il riconoscimento ultimo che è arrivato, è stato molto importante, perché sono entrato nell'Accademia degli Oscar, quindi sarò in giuria agli Oscar, e quello è stato un evento improvviso, neanche un'email, la scuola americana di cinema, devo dire, è molto saggia, cioè, evidentemente ha premiato un lavoro, e quello mi ha molto gratificato. e, quindi, a tutti i giorni, a tutti i giorni, Grazie.